Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Dopo il super weekend che abbiamo appena vissuto, ricominciamo subito a parlare di Champions League. Infatti già da domani comincia la Champions ed è finalmente la giornata decisiva per capire chi, come, quando passerà, soprattutto delle italiane. Insieme a me, come sempre, i zibbracci di metodo Stats4Bets e tipster robot. Domani avrò un incontro molto importante per il quale poi vi darò le informazioni per una iniziativa benefica che faremo sotto Natale, quindi sono molto contento di poterla fare. Prima di cominciare a studiare la Champions ricordati di seguirmi e di lasciare un like. Andiamoci a prendere il superfoglio e vediamo un po' cosa c'ha da offrirci questa Champions League. Tra l'altro, nell'ultima giornata, ieri con la Roma che ha resistito in nove, è risultata vincente l'ennesima maggiorata che abbiamo condiviso la settimana scorsa. Questa cosa di analizzare le quote maggiorate è un format che mi sta piacendo, quindi può darsi che continuerò a farlo se mi arrivano le maggiorate giuste da segnalare. Questa della Roma, la 1X, era pagata a 6, era piuttosto interessante. Diverse persone hanno aderito, quindi comunque, quota 6 per la 1X, niente male. Sulla Champions per ora ancora non mi mandano maggiorate, nel caso in cui arrivassero delle maggiorate sulla Champions ve le comunico, come sempre, su Telegram. Quindi, eventualmente, iscrivetevi lì. Allora, abbiamo due partite domani molto interessanti. Il Napoli, che comunque non avrà problemi a qualificarsi, e l'Inter contro il Real Sociedad, che sorprendentemente non è ancora primo. Cioè, nel senso, questa partita è decisiva per passare come primo. Perché, allo stato attuale, l'Inter, che io, onestamente, mi sarei già aspettato di vedere prima, quando ho visto la classifica, sono rimasto sorpreso. Con il pareggio ottenuto, anzi, in grande rimonta col Benfica, si è un po', tra virgolette, salvato. Salvato anche del fatto che la Real Sociedad non ha battuto il Salisburgo. Diciamo pure che non è che cambia chissà cosa tra primo e secondo posto. Cioè, poi bisogna vedere gli accoppiamenti, come vanno. Quindi, non è detto che arrivare primo sia meglio o peggio. Io, onestamente, non mi sono studiato tutto il dopo. Quindi, non so se all'Inter converrebbe arrivare prima, seconda, eccetera, eccetera. Quindi, la analizzo per quello che è. Poi, faremo dei ragionamenti, perché, per esempio, nel video che dedicheremo al match decisivo per il Milan, il ragionamento qui è molto semplice, ragazzi. Io sono quasi straconvinto che tra Borussia e Paris Saint-Germain finirà in pareggio. Perché, se finisce in pareggio con il Newcastle che ha battuto il Paris Saint-Germain, ci sarà da valutare la differenza reti per capire chi passa e chi no. Quindi, è un po' alzigocolato. Qui, ormai, tenete conto che l'intelligenza artificiale, quando analizza i numeri, in questa fase qui, non valuta il fatto che è l'ultima partita che si passa il turno o non si passa il turno. Cioè, non riesce a valutare tutto quello che succede negli altri gironi. Quindi, si basa sui numeri di questo specifico girone. Quindi, troviamo una Real Sociedad che si è dimostrata sicuramente più ostica di quello che ci si poteva aspettare. Probabilmente, nella prima partita, se non ricordo male, l'Inter, diciamo, che aveva avuto più occasioni di vincerla. Ah, quindi, alla fine, adesso ti ritrovi con quest'ultimo match da affrontare decisivo. Ripeto, primo o secondo posto cambia poco in questo momento. I bookmaker stanno premiando l'Inter. Da 1,80 è scesa a 1,62 e qui continua a scendere. C'è da dire che l'Inter, vista in questo momento, è difficile andare di contro. È difficile andare di contro, anche se nella visione complessiva, nel computo complessivo, qualche segnale di una possibile non vittoria ci sta. Perché, per esempio, c'è la Formula 4, che qui troviamo 4,53, 5, rientra comunque in Formula 4. C'è lo status giallo, perché a livello prettamente statistico, l'Inter non ha un dominio tale, ricordiamoci che le statistiche ti rendono favorevole dal 57, 58 in su, quindi a 56 è ancora una statistica media. Il giallo, come nel semaforo proprio di quando guidiamo la macchina, ci dice semplicemente di prestare attenzione. È favorita, ma non è stra-favorita, perché comunque un 43,7% di probabilità ti dicono che potrebbe non vincere. 43,7% è quasi la metà delle probabilità. Quello che è molto diverso è che solitamente, cioè è difficile vederlo così tanto diverso, avviene diversamente, però è tanto il divario, 70% per il flashback contro il 56% della valutazione nel campo. Quindi questo è molto importante, il flashback, le quote favoriscono molto l'Inter. Il valore del campo più l'analisi di tutti gli altri fattori invece per il momento sono un pochino più cautelati. Ne viene fuori che l'intelligenza artificiale ci dice comunque un probabile 1. Cioè il probabile 1 è leggermente meno, leggermente peggio, tra virgolette, rispetto all'ottimo 1. Però stiamo parlando di una squadra comunque stra-favorita e comunque stra-forte. A volte a me le polemiche sugli episodi che vedo, sento, ci stanno gli episodi, ci stanno le cose non chiare che fa il VAR, eccetera, eccetera. Ma l'Inter, al di là della trattenuta che subisce Lautaro nel rigore per l'Udinese, l'avrebbe comunque stravinta quella partita. Meritava già di stare in vantaggio. Io non credo a tanta dietrologia che danno il rigore all'Inter perché l'Inter aveva già colpito il palo, già sprecato due occasioni. E allora per paura che l'Inter non vincesse gli danno il rigore. Cioè quello è un rigore stupido. Il primo a essere stupido lì è il difensore che fa questo gesto all'attaccante che sta andando via. Poi l'interpretazione dell'arbitro non dovrebbe essere a interpretazione. Cioè dovremmo avere delle linee guida che sono uguali per tutti, però a me non mi sembra un rigore scandaloso. E lo dico da non tifoso dell'Inter. Cioè io sono tifoso della Roma, da sempre, stradichiarato. Quindi non lo so. Certe volte le polemiche mi sembrano veramente esagerate e strumentali. Mi sembrano più liti tra tifosi. Quindi l'Inter probabilmente non la utilizzerei in singola, anche se la quota sarebbe da singola. Però penso che vincerà. Gol no gol, molto equilibrato. 53-46 non ci dà un'indicazione. Per esempio qui anche il flashback 54-45 non ci dà questa grossa indicazione. Se andiamo a vedere, troveremo due squadre che non subiscono molto. 1-50-0-40. Addirittura finora il Sociedad in trasferta, è vero parliamo solo di due trasferte, non ha subito niente. Quindi diciamo che la situazione è un po' quella. Più che altro potrebbe essere interessante vedere cosa ha fatto Real Sociedad in campionato. perché onestamente non l'ho seguita. Nell'ultima partita di campionato, vediamo un attimo, ha vinto 3-0 con il Villarreal. Quindi Real Sociedad continua a manifestarsi come squadra assolutamente in forma, assolutamente da temere. Quindi sul gol no gol non ci abbiamo grosse indicazioni. Proviamo a vedere sull'underover. Sull'underover è strano, perché apriva a 1,75 sull'under, ribalta a 1,75 sull'over. Uno dei motivi per i quali dico spesso che non mi piace basarmi solo sulla quota iniziale, perché, come in questo caso, ci perderemmo questo passaggio dall'una all'altra. Io penso che una partita di questo tipo, anche se non ha indicazioni chiare sul segno principale, quindi sull'over 2.5, tra 1,5 e 3,5, tra over 1,5 e under 3,5, comunque forbice non larghissima, 76-70 in pratica, però questo ribaltamento di quote mi fa tendere maggiormente a un over 1,5 piuttosto che all'under 3,5. Certo, i numeri ci dicono un po' così livellata, difficile prevederla. Addirittura il flashback è pressoché identico, 73-72-8, quindi è strano. Bisognerebbe veramente capire quanto vogliono diventare prime queste due squadre. Se diventare prima e ti evita magari di andare a affrontare, non lo so, il Real Madrid, e quindi entrambe vorranno vincerla o entrambe avranno reale valore dall'ottenere un risultato positivo, andrei sull'over 1,5, se comunque il passaggio del turno da prima o da seconda cambia poco, potrebbe essere anche un under 3,5, però io la sposterei comunque a favorire l'Inter, perché comunque a me in questo momento mi sembra la squadra più in forma in Italia, più forte, e quindi probabilmente farei fatica ad andargli contro. Quindi come esito rischioso, non da singola, però la vittoria di l'Inter, secondo me, è un esito valutabile, anche se, come abbiamo detto, ci sono degli elementi negativi che possono essere la Formula 4, le statistiche non sbilanciatissime, uno status complessivo da semaforo giallo, quindi che ti dice attenzione, fai cautela, però, secondo me, l'Inter può battere il Real Sociedad nonostante tutto. Per questo video è tutto, ci vediamo domani nel prossimo video.